L'inno nazionale, c'è tutto un discorso che lei fa sull'inno nazionale, il ministro Meloni a noi ha detto non vedrei male se per esempio i ragazzi almeno una volta alla settimana, una volta al mese lo imparassero e lo cantassero a scuola. Sono d'accordo, perché io quando gioco alla nazionale sono in panchina e sento l'inno della nazionale, una volta ho spiegato sul libro anche, ho detto che mentre suonava l'inno a me è venuto un leggero sorriso perché non lo stavo cantando. Perché mi è venuto un leggero sorriso? Perché ho pensato, adesso i vari soloni diranno, da Lippi non gliene frega niente, se sapessero quello che mi sta passando in questo momento nel cuore e nel cervello, è venuto da sorridere. Sono assolutamente d'accordo, io le sensazioni che provo, adesso lo canto, a volte lo canto, a volte no, ma non è quello il problema, ma le sensazioni che provo quando sento l'inno sarà perché sono il CT della nazionale, ma sono assolutamente sensazioni fantastiche. Secondo me vedere tutti questi bambini, mi è capitato di andare in tante scuole dopo i mondiali e quando sono arrivati i bambini che cantano l'inno, è una bella cosa, una bella sensazione, sarei d'accordo che in determinate circostanze se lo cantassero e lo imparassero prima di tutto sarebbe una cosa bella. Senta, la Toscana, ci sono inchieste in scorso, non entriamo nel merito delle inchieste, non ce ne frega niente, però sicuramente tutte queste indagini non danno una bella immagine della politica, sia che sia di destra, sia che si sia di centro-sinistra, anzi in Toscana riguardano più il centro-sinistra, premesso che sono solo inchieste, la gente non è ancora stata condannata, lei ne sa qualcosa delle condanne via giornali o via i processi mediatici, come Toscano, come ha vissuto queste vicende? Ma no, ma la Toscana, questa è una vicenda di ora, la Toscana, io faccio sempre, l'ho fatto nel momento di Calciopoli, l'ho fatto sempre, mi sembra calzante come esempio. Se abbiamo una forma di formaggio in cantina, di pecorino toscano, di quello buono, e magari prendo un pochettino di muffa, non è che la buttiamo via, no? Io la vado a prendere, prendo un coltellino, levo la muffa e poi me lo mangio, perché è talmente buono. Ecco, il discorso del buono e del cattivo è che c'è in tutte le categorie, nessuno pensa che in Toscana ci siano tutti angeli e tutti santi, magari ogni tanto verrà fuori che c'è anche qualcuno che non la pensa nella maniera giusta, però credo che sia... Cioè non generalizziamo. Non generalizziamo, semmai che non ci sono persone di grande qualità, da sempre ce l'ha insegnata la storia. Però sarebbe semplicistico dire che tutta la classe dirigente toscana è da buttare, se ho ben capito. Direi, però... Solo perché c'è qualcuno che è stato un po' leggero. Vale per tutti, a parte il fatto che poi deve essere dimostrato che chi eventualmente... Sì, l'ho premesso. Deve essere dimostrato. Senta, questo Murigno non ha mai allenato in vita sua, non è un handicap? No, come non ha mai allenato? Non ha mai giocato, chiedo scusa. Non ha mai giocato, sì, sì. Chiedo scusa. Però ci sono, visto che Pozzo, Vittorio Pozzo è un allenatore abbastanza attuale, perché è stato ricordato la striscia positiva di Pozzo che aveva avuto la fortuna di superare. Superato. E lui addirittura era un giornalista e aveva anche un problema fisico, fra l'altro, Pozzo. Altri allenatori grandi, come per esempio Arrigo Sacchi, non ha mai giocato a livello professionistico, ha giocato a livello di entrantistico e anche Murigno penso. Non deve diventare un... No, no, perché specialmente... Ma vi sentite con Murigno? Murigno io lo conosco da... perché facevamo parte di un gruppo di allenatori che si riuniva frequentemente alla UEFA, a Nyon, perciò l'ho conosciuto in quell'ambito. Lui è un personaggio, è un grande comunicatore, parla cinque lingue. Sì, è affascinante. E chiaramente lui è quello che oggi, l'allenatore a seconda di dove allena diminuisce l'aggettivo allenatore, aumenta l'aggettivo istruttore oppure aumenta l'aggettivo gestori di uomini. Nelle grandi squadre sei un po' meno allenatore, un po' meno istruttore e sei molto gestore di risorse umane. E la personalità, la cultura, la saggezza, il carisma che a lui lo puoi avere anche se non hai giocato a grandi livelli calcistici. Aver giocato a grandi livelli calcistici aiuta perché se hai giocato a una grande squadra sai cosa significa la grande squadra, conosci la psicologia della grande squadra, sai come si ragiona quando si vince, sai come si ragiona quando si perde e ti aiuta, ma non è indispensabile. Non è assoluto. Senta, da un sondaggio che abbiamo lanciato e qui chiudiamo poi una domanda finale. L'hai già detto otto volte. Allora, l'IP senatore a vita batte Mike Bongiorno, accetterebbe se la nominano senatore a vita? Senatore a vita... Lei batte Mike Bongiorno, cioè voglio non lei, non Mike Bongiorno, senatore a vita. Ho capito, ho capito. Senatore a vita da... in una parte molto... Più in là. Più in là. Sai perché accetterei? Perché l'ha fatto l'avvocato Agnelli, allora sarebbe un modo di omaggiare lui, di fare una cosa che ha fatto anche lui. Bello, certo. Poi io so che lei fa molta attività sociale, molta non la dice, alcuna si vede, alcuna non si vede, quindi sono certo che sfrutterebbe anche queste opportunità. Per i più deboli, giusto? Certo, certo. Posso metterglielo in bocca? Certo, certo. Senta, chiudiamo, una autocritica di Marcello Lippi. Che cosa... il Rovello, professionale, personale, quello che vuole lei? Cosa ha sbagliato Marcello Lippi nella vita? Ho sbagliato, ho pensato per tanto tempo di ripropormi male alle persone, ai giornalisti per esempio, non ho avuto mai un rapporto buono, sempre litigato spesso, sempre offesi, mi è andata col paese. Con lei no, però con tanti sì. E per tanto tempo sono stato convinto di sbagliare, poi dopo invece nella fase finale della mia carriera, che siamo nella fase finale ma non è ancora finita, mi sono reso conto che invece non sia un errore quello di proporsi alle persone in modo diretto, come sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Le persone, prima di tutto perché non si può andare d'accordo con tutti nella vita, è una cosa impossibile andare d'accordo con tutti. E secondo perché se tu ti proponi come sei, con tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti, alla fine le persone sanno con chi hanno a che fare. Un giocatore però sottovalutato nella sua carriera, ci sarà pure stato, che lei è un po' sottovalutato e a cui possiamo dire to' sottovalutato, forse andavi valorizzato di più. Uno, un nome. No, ma ci sarà sicuramente, però adesso non mi viene a mente, sono sincero, non mi viene a mente. Io magari ho sbagliato qualcosa nella gestione di questo calciatore, non mi viene a mente. Assolutamente, rifarebbe quindi tutto? Ma rifarei tutto, perché nella misura in cui… Lei per esempio non ha mai rinnegato l'amicizia con Moggi, mai. E perché la devo rinnegare? Non l'ha mai fatto nei momenti anche più critici. Ma no, ma io ho lavorato a dieci anni con questa persona e poi dopo sono andato via, è bene sottolineare questo, sono andato via nel 2004 e poi sono venute fuori alcune cose che sono successe nel 2005-2006, no? Perché prima, per quanto riguarda quello che ho visto io, non era successo assolutamente niente. Oh certo, è stato anche… E queste cose qua, perché devo rinnegare l'amicizia con Luciano Moggi? Una persona che era stimato da tutti, era stimato professionalmente. Anche temuto. Una persona temuta, perché era bravo nel suo lavoro, tutti lo cercavano, tutti lo volevano, c'era la fila dei direttori sportivi, dei presidenzi… Ma sì, tutti lo volevamo, lo volevamo tutti. Questa è la realtà. Poi dopo quello che è successo negli ultimi anni, certamente… Da 1 a 10, che voto dà il nostro giornalismo sportivo, non il giornalismo in generale, che mi sembra sportivo, da 1 a 10? 6, 5… No, gli do di più, di più. E là? Di più. Li do di più perché… L'ha cazziati. Lo so, ma ho cazziato quelli scarsi, conosco delle persone che hanno grandi qualità e perciò gli do di più, diciamo un 7, perché ci sono quelli che si occupano di sport vero e altri invece che si occupano di tante altre cose che non hanno niente a che fare. Ci sono ancora tanti che si inventano le notizie o un po' meno nel calcio? No, inventarsi no, non ce le inventano, però le infiorettano talmente tanto che diventano quasi false completamente, ma poveracci, bisogna anche capire che oggi con internet, con la televisione, con l'istantaneità della notizia, la mattina dopo la carta stampata si trova a raccontare una notizia che tutti già conoscono, se non viene infiorettata, se non viene condita, se non viene ampliata un pochino, diventa difficile. Esatto, l'ultima cosa, parte il nuovo programma di Piero Chiambretti su Mediaset, so che lei ama l'umorismo, gli facciamo gli auguri a Piero Chiambretti? è venuto una volta a fare un pezzo sulla trasmissione di Marchette che faceva lui, si è presentata con una parrucca di capelli bianchi e occhiari, ero uguale a me, un po' più basso, perciò è una persona molto simpatica, molto valida, gli faccio un grande bocca al lupa, non so che tipo di trasmissione farà? Sarà ironica, lei ci sarà dentro nel senso che potrebbe, sui numeri uno, però il taglio sarà quello chiambrettiano. credo che prima di tutto si prende in giro, perché per prendere in giro gli altri bisogna prima sapersi prendere in giro. l'Italia, l'autonomia, grazie, in bocca al lupo, grazie Marcello, grazie a voi, grazie.